Madame Tange Va beh, alla fine della fiera, un po' di bene glielo vogliamo. Ma quel bene che vogliamo, sapete quei parenti acquisiti, che fanno tanta tenerezza, però non te lo porteresti mai a una cerimonia elegante, no, perché hai paura? e parlo del nostro inno e vedete il nostro inno gli vogliamo bene, lo sentiamo nostro però è brutto è tazzum tazzum è quello che si chiama una marcetta incomparabile rispetto ai sontuosi inni degli altri e parlare bene del nostro inno è come cominciare a intraprendere i sentieri più impervi della filosofia aleatica, è come cercare di dimostrarvi che ad esempio questa donna è un'attrice o che per dire questo è stato il modello di auto migliore della storia dell'industria automobilistica del ventesimo secolo eccola qua oggi vorrei dirvi una cosa che noi abbiamo un grande inno che ha un solo difetto è suonato da cani o meglio non è eseguito come lo scrisse nel 1847 un signore che si chiamava Michele Novaro il nostro inno ce l'abbiamo senza istruzioni per l'uso guardate io ho fatto parte di quel gruppetto di persone che aiutò a suo tempo in un'altra vita il presidente Ciampi nel rinnovare rivitalizzare i simboli della patria e nel 2002 il Corriere della Sera ha distribuito a ciascun suo lettore il 2 giugno questo cd al quale io ho tolto la copertina per carità di patria primaria banda militare una cantante sette versioni dell'inno la numero 4 credetemi sulla Palora recita così versione integrale ridotta no tu rimani un po' così basito cominci a pensare ai tuoi trascorsi scolastici sei meno o meno però Dio buono sei integrale però l'ha detto il Corriere della Sera vai avanti numero 5 versione originale breve quindi c'è anche una versione originale lunga ma quando arriviamo al numero 6 versione integrale ridotta originale tu chiami SOS Mago Hotelma e entri nelle praterie della magia nera allora abbiamo un bellino adesso vi chiedo di chiudere un attimo gli occhi no meglio sgombrate la mente cancellate dalla vostra testa l'inno come siete abituati ad ascoltarlo e sentite questa versione che ho registrato al Palazzo del Quirinale diversi anni fa in occasione di una visita di Stato a eseguirla alla banda dell'esercito sentirete anche gli zoccoli dei cavalli dei corazzieri e poi ci torniamo grazie a tutti E' un po' strana, non sembra neanche quello che percepiamo, cammina, è fluido, è dinamico, posso dirvi che è solenne. E come lo avvertiamo invece il nostro in adesso? Così? Direbbe un cuoco c'è un'idea di percussione. Abbiamo ingessato l'inno. L'inno così, l'inno così, è un abisso, notte e giorno. Qual è il motivo? Il motivo è semplicemente questo. Purtroppo siamo l'unico paese al mondo che fa marciare la nostra bandiera sulle note dell'inno nazionale. Ed è per questo che abbiamo dovuto accentuare la gran cassa per permettere al gruppo bandiera di tenere il passo. Se eseguito da fermo, non ci sarebbe stato. Vedete? Boom! Ricolti sulle pause, ma va bene. In questa anarchia ci sono anche degli inserimenti gustosi che adesso vi propongo. L'inno modello sagra paesana. Zam! Poi arrivò il genio, si svegliò un momento e disse ho capito qual è il problema del nostro inno. È troppo veloce. E scrisse l'inno soporifero. Signori, se avevamo quest'inno stavamo ancora sotto l'Austria, oggi. Adesso... Vi voglio dire una cosa, il nostro inno, sapete cos'è tecnicamente? Si chiama cabaletta, cioè il finale d'atto. Suoni la tromba intrepido, questo è un finalone d'atto, cabaletta, il tenore si scatena, applausi a scena aperta, giù il sipario e si riparte. Com'è possibile? Perché è un finale d'atto? Perché la musica del teatro d'opera informava tutto il mondo musicale ottocentesco. Non c'era musica colta o musica popolare, tutto stava lì. E io vi presento il genio, Michele Novaro, colui che compose la musica del nostro inno. Attenzione, il nostro inno non è Mogol Battisti Bardotti Shapiro, cioè Michele Novaro e Goffredo Mameli non lavorarono insieme. Michele Novaro riceve il testo del nostro inno e lo legge. E Michele Novaro lavorava a Torino, nei teatri. Sapete che significa lavorare nei teatri nell'Ottocento? Avere chiara l'idea della scena, del movimento, della trama, delle masse che si muovono. Tu vedevi un testo e lo trasformavi in azione. E lui questo fece. Vide il testo e scrisse la partitura. Spallancò la porta del Caffè Calosso in via Garibaldi a Torino e ai suoi amici disse Correte! Ho appena composto la poesia di Goffredo, via tutti, una ventina, nella sua stanzetta in via Roma, ma prima di immergere le dita nel pianoforte. Lui si girò e disse Ragazzi, amici, scusate, perdonatemi. Sì, sto per dire una stupidaggine, una pazzia, ma vi voglio dire che cose mi ha ispirato quei versi. Qual è la scena che mi è entrata nella testa e che io ho tradotto in partitura? E la vediamo noi adesso, soprattutto chi la musica non la conosce. Lui dice Mi pareva di essere in un'immensa pianura riempita all'inverosimile di tutte le popolazioni italiane. 24 milioni di italiani che stanno in una pianura. A dire cosa? Non lo so anche tu qui perché? Non lo so. Improvvisamente rulli di tamburo e squilli di tromba. Attenzione, allegro marziale, che non vuol dire tempo di marzo, vuol dire fiero, solenne, forte, duro. Come inizia il nostro inno? Con un segnale d'allarme, rulli di tambure e squilli di tromba. Sentite. Tamburi. Trombe. Che si ripetono ancora. E le trombe richiamano. E provate a stare in mezzo a questa gente e cominciare che qualcuno vi strattone e dice Guarda laggiù, sì. E lo sguardo delle persone va in un angolo di questa pianura dove c'è un trono. E sul trono un personaggio meravigliosamente vestito che si ansia il piede, allarga le braccia. E Novaro dice, con queste braccia pareva che volesse abbracciare tutta quella popolazione. E comincia a parlare. Questo movimento degli sguardi delle persone e la figura che si alza e le braccia che si levano è rappresentato in partitura da questo pezzettino in cui lui segna vibrato. Vedete quel vibrato? Vuol dire suonatelo con espressione. Avete notato che ci sono due battute d'attesa? Perché devi accentuare l'aspettativa. Che cosa dice? Non ne tagliamo sempre una, spesso. Bestie, non si fa. Non si fa. E adesso questa figura comincia a parlare. Ma come parla? C'è scritto lassù. Lo dice F con molta energia. Forte, con molta energia. Non è fratelli d'Italia, l'Italia, no. Fratelli d'Italia, l'Italia se adesso io devo convincere 24 milioni di straccioni. Gli ultimi dell'Europa, divisi in sette stati. Calpesti e derisi a prendere le armi contro l'Austria. E quindi il mio canto è solenne. Chi sa la musica, guardi la sottigliezza e la bravura di pause e legature che spingono dinamicamente questo canto. Ma veni, l'Italia, l'Italia se besta. Come va, ah. Chi sa la musica, chi sa la musica? Chi sa la musica? Chi sa la musica, chi sa la musica? Chi sa la musica, chi sa la musica? Orca miseria! E adesso il colpo di genio di Novaro, quello che noi traduciamo con popopo, 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 che non è popopo. Queste note ribattute che vedete in fondo a destra, sapete cosa sono? L'effetto di quelle parole sul cuore della gente, sono dei pugni sullo stomaco. E adesso cambia tutto. Vi ricordate prima Allegro Marziale? Forte, con molta energia. Allegro mosso, pianissimo e molto concitato. Cambia qualcosa. Noi siamo abituati a ricantarlo uguale. Fratelli d'Italia. No, 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 no. È sbagliato. È sbagliato. Noi siamo l'unico paese al mondo che ha un inno in cui i protagonisti sono due. Una voce che chiama e un popolo che risponde. Da questo momento sono i 24 milioni di straccioni che parlano. E quando tu ricevi una notizia che è incredibile, a cui tu non credi, quando mi stai dicendo che è successo? Semplicemente questo. Noi ripetiamo la strofa perché il popolo non ci crede e la ripete con un punto di interrogativo. Incredulo, la gente ha paura. non c'è niente di eroico qua. Si affaccia all'idea del combattere, ma c'è anche l'idea della morte. Il tono rimane è minore e c'è ancora paura. Poi il miracolo. Guardate in partitura. Crescendo, accelerando fino alla fine. In questo momento il popolo capisce che può farcela. Acquisisce la consapevolezza e rompe le indugie, accelera, si alza, la voce si alza e grida quel sì che non c'è nella poesia, ma che Michele Novaro dice, mi perdonerà il poeta, ma l'ho aggiunto come suggello al giuramento finale. Sentite che bello. Signori, nel minuto della prima strofa dell'inno c'è tutto il nostro risorgimento. E adesso vorrei provare a chiedervi una cosa. Vogliamo provare a cantarla come l'ha scritta Michele Novaro. Ci proviamo? Ok, allora, tutti in piedi, dai, dai. Seguite me che vi aiuto. Seguite andiamo dal vicere austriaco a fare l'inchino, il primo dell'altro. Forte con molta energia al Fra. Sarà pure laico qui, ma i frati bisogna chiamarli. Fratelli d'Italia, d'Italia sedesta, dell'Emo, di Scipio, se città la testa. Dove la voce a vittoria, e gloria, e gloria, a chioma, che schiava. Vi rova, vi viola, a due veo. Fratelli d'Italia sedesta, dell'Emo, di Scipio, se città la testa. L'Emo, di Scipio, di Scipio, se città la testa. L'Emo, 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 di Scipio, Grazie.